E' stato fermato stanotte dalla squadra mobile di Ragusa per omicidio volontario Giuseppe Panascia, 74 anni, il marito di Maria Zarba, 66, uccisa giovedì sera nella sua abitazione nel centro del capoluogo Ibleo. Il provvedimento è stato emesso dalla procura. Secondo l'accusa avrebbe ucciso la moglie dalla quale era separato da circa un anno, per contrasti proprio sulla loro separazione. L'uomo, che è stato interrogato dalla polizia e dal PM Giulia Bisello alla presenza di un avvocato d'ufficio, si è però proclamato innocente. La svolta nelle indagini è arrivata a 30 ore dall'omicidio di Maria, trovata l'altro ieri sera con il cranio fracassato nella sua casa nel centro di Ragusa. Panascia, ex tecnico di un istituto superiore, è accusato di omicidio volontario. Sarebbe stato lui, secondo l'accusa, ad avere colpito violentemente più volte la donna con un oggetto contundente particolarmente duro, procurandole anche un esteso trauma cranico. Al trovare il corpo nella stanza di vita a soggiorno cucina della loro casa, due sere fa, era stato il nipote della vittima, Giuseppe, 22 anni, che viveva con la nonna, appena rientrato dal lavoro. Sono state le sue urla di dolore a richiamare i vicini, che hanno avvisato polizie, 118, ma la donna era già deceduta. Sia lui che i quattro figli della coppia, che vivono lontano da Ragusa per motivi di lavoro e che sono subito rientrati in città, erano a conoscenza dei rapporti burrascosi tra i due. Tema principale della lite è la loro separazione, che lui non aveva accettato, e le lamentele della donna perché lui non le avrebbe versato i soldi dovuti. Le indagini sono state subito indirizzate sulla sfera personale della donna. La polizia scientifica non ha accertato effrazioni alla porta di casa, da dove soprattutto non mancavano oggetti preziosi e soldi. La squadra mobile ha quindi escluso subito la tesi della rapina, puntando invece su eventuali rancori personali. Maria era una donna molto nota nel suo rione, rispettata e molto religiosa. Era anche una ministrante, da laica dava la comunione ai malati andandoli a trovare a casa. Un impulso alle indagini sarebbe venuto anche dalla visione dei filmati delle registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona. Alla nonna uccisa, il nipote Giuseppe, su Facebook, ha dato così il suo commosso e straziante addio. Ciao amore mio, ho perso una mamma, è diventata il mio angelo custode, è andato via il mio cuore, che solo tu mi facevi battere fortissimo. Ti amo da impazzire.